Salve, mi chiamo Giuseppe, sono un romatologo da diversi anni e in questo video vi dirò se la crema Ostex è buona e se funziona davvero. Quindi, rimanete fino alla fine di questo video che vi dirò tutto quello che c'è da sapere su questo farmaco e se, in effetti, vale la pena acquistarlo. Ogni mese, nel mio studio vedo centinaia di pazienti. Il motivo principale per cui il 90% dei pazienti si rivolge al mio studio è sempre lo stesso, dolori insopportabili alle articolazioni e ai muscoli che impediscono di eseguire anche i più semplici movimenti quotidiani, causando grande frustrazione. I dolori causati da malattie del sistema muscolo-scheletrico, come artrite, osteoartrite, osteoporosi o gotta, sono insopportabili. Semplici movimenti quotidiani come lavarsi i denti, salire e scendere le scale, portare le buste della spesa o guidare diventano incubi. È difficile svegliarsi ogni giorno con il dolore dopo essersi svegliati 10 volte durante la notte alla ricerca di una posizione in cui la schiena faccia meno male. Ecco perché è estremamente importante iniziare un trattamento tempestivo. Per questo motivo consiglio ai miei pazienti un farmaco rivoluzionario che è in grado di ripristinare la funzionalità articolare anche in caso di complicazioni croniche. Questo farmaco è Ostex. Ostex è una pomata analgesica e antinfiammatoria di supporto alle articolazioni per tutti coloro che soffrono di dolori terribili causati da artrite, gotta, osteoporosi e altre malattie muscolo-scheletriche. Migliora la mobilità articolare, aiuta a ridurre il gonfiore, rafforza l'articolazione e i vasi, promuove la rigenerazione dell'articolazione e dei tessuti. L'unicità della crema Ostex è che non solo elimina il dolore, ma crea anche le condizioni per una naturale rigenerazione dei tessuti, che può durare da un giorno a due mesi. Considerata da molti esperti come il trattamento più sicuro ed efficace sul mercato, la crema Ostex raccoglie il 98% di clienti soddisfatti in tutto il mondo. Utilizzando Ostex, la mobilità degli arti ritorna rapidamente e si nota subito un miglioramento del proprio benessere. Potrete ballare, fare esercizio fisico, giocare con i vostri nipotini e riacquistare la vostra qualità di vita. Ma attenzione! Solo Ostex è in grado di fornire tutti questi benefici. La grande richiesta di questo prodotto ha portato alla comparsa di molti falsi. Esiste un solo luogo ufficiale in cui Ostex viene venduto, ovvero il sito web ufficiale. Perciò, per aiutarvi, ho inserito il link al sito ufficiale scontato nella descrizione di questo video. In questo modo, potrete essere certi di ricevere il prodotto originale. Basta cliccare sul link per essere reindirizzati al sito ufficiale del produttore e poter effettuare l'ordine. Per poter effettuare l'ordine. È sufficiente compilare il modulo con il proprio nome e il numero di telefono corretto e attendere la chiamata di un rappresentante che deciderà insieme a voi la quantità da ordinare. Se non rispondete alla chiamata, l'ordine non verrà effettuato e rimarrete senza il prodotto. Pertanto, quando il rappresentante vi chiama, rispondete. Il prodotto arriva a casa vostra in pochi giorni e si paga solo quando lo si riceve. Ostex ha una garanzia di 365 giorni. Se per qualsiasi motivo non vi piacciono i risultati, se il prodotto non funziona per voi, potete chiedere il rimborso senza alcun rischio. Tuttavia, negli ultimi giorni la domanda di Ostex crema è aumentata. I clienti stanno effettuando nuovi ordini a ritmo sostenuto dopo aver visto una trasformazione nelle prime settimane. Si sta diffondendo la voce che finalmente esiste un modo per ridurre al minimo i dolori articolari e vivere una vita piena. Dovrete quindi agire in fretta per acquistarlo prima che le scorte si esauriscano. Vi ringrazio per l'attenzione e spero davvero che questo video vi abbia aiutato. Vi auguro un ottimo trattamento e che possiate ottenere risultati straordinari con la crema Ostex, proprio come molti pazienti che utilizzano questo prodotto. Un saluto e alla prossima!